Un giro di spaccio milionario, due chili di cocaina smerciata ogni mese per oltre 200.000 euro all'anno. A stroncare l'organizzazione criminale i carabinieri di Siena e Arezzo che hanno arrestato due cittadini albanesi, un 36enne residente a Fogliano della Chiana, gestore di un nightclub della zona ed un 31enne che invece abita a Sinalunga. Ne guai anche un 28enne albanese e un 34enne di La Mezzia Terme. Per loro invece il giudice ha disposto l'obbligo di dimora ad Asciano. I quattro, secondo quanto emerso dalle indagini dell'operazione Deriva, controllavano lo spaccio di stupefacenti nella Valdichiana, Senese e Aretina e nel territorio delle Crete Senesi. Le indagini, durate oltre sei mesi, erano partite dall'omicidio di Andrea Andoia, 21enne albanese, ucciso in un casolare di Sinalunga il 9 maggio 2018 da Giulio Sale, pastore di origine sarta condannato a 16 anni di reclusione. I militari, infatti, dopo il delitto avevano individuato un gruppo di spacciatori vicini alla vittima. La droga smerciata principalmente arrivava da Perugia, ma era acquistata anche in Alto Adige per poi arrivare nelle piazze senesi e Aretine. La cocaina veniva in suddivisa in porzioni custodite dentro a barattoli sotterrati nei boschi senesi. Proprio lì i pusher avrebbero subito un danno da 20.000 euro a causa della presenza di cinghiali che avrebbero dissotterrato la droga. I quattro ogni mese comunque riuscivano a spacciare circa due chili di cocaina, pur all'80-85%, con un costo che variava dagli 80 ai 100 euro tra i clienti uomini e donne di ogni estrazione sociale da chi poteva permettersi acquisti irregolari da 1.000 euro al mese a chi invece doveva attendere l'arrivo dello stipendio per i pagamenti sino a coloro che dovevano spacciare a loro volta per potersi finanziare. Durante l'operazione, infine, i militari hanno eseguito cinque perquisizioni, una anche all'interno del nightclub di Foiano della Chiana.